Ciao a tutti, io sono Jessica dalla Svizzera e al momento sto frequentando il corso sui lievitati dello chef di Giglio. Ci tengo moltissimo a fare questa recensione perché mi sto trovando davvero molto bene con il suo corso, perché i suoi video sono molto dettagliati e io pure essendo una dilettante riesco a seguire ogni passaggio e soprattutto a capire perché si fanno determinati passaggi, perché si usano determinati ingredienti a certe temperature. La cosa più interessante di questo corso per il momento trovo il fatto che lo chef cerca di spiegare come si può modificare una ricetta a base delle proprie necessità, cioè a base di come si vuole il prodotto finale. Questa la trovo una lezione molto utile per il futuro, per quando si vogliono creare magari delle ricette da sé. Apprezzo molto la gentilezza e la disponibilità dello chef perché io ogni volta che gli mando qualche foto di un mio prodotto, lui subito mi dà dei consigli su come migliorare e cosa fare meglio la prossima volta. Quindi io veramente, vivamente consiglio i suoi corsi e spero anche di poterne farne altri in futuro. Grazie mille a tutti! Grazie mille a tutti!